Buongiorno, 18 luglio. Oggi parliamo della nostra salute e molto più nel dettaglio dell'aria che respiriamo e ancora più in dettaglio dell'inquinamento provocato delle autovetture. Meglio ancora, per diminuire questo inquinamento, automobili e camion, sono dotati ormai da diversi anni di un dispositivo che si chiama FAP, filtro antiparticolato. Questo serve per ridurre le emissioni inquinanti dei gas di scarico, quello che esce in buona sostanza dal tubo di scappamento. Allora io oggi vi voglio parlare di tre aspetti. Il primo, sto cercando di informarmi su quanto questi filtri funzionino e quanto sia saggio andare a ridurre col passare degli anni le dimensioni delle particelle che escono dai tubi di scappamento delle autovetture. Perché sappiamo bene che più la particella è di dimensioni ridotte e più passa attraverso i filtri del naso, della trachea per arrivare ai polmoni e quindi poi eventualmente purtroppo direttamente nel circolo sanguigno. Quindi qui sto cercando di informarmi e capire se effettivamente la tendenza tecnologica che vuole il passaggio delle autovetture da Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 eccetera è positiva in questo senso. Ci sono dei dubbi, cercherò con i colleghi e con tutti coloro che vorranno aiutarmi di capire se stiamo andando appunto nel verso giusto. La seconda questione purtroppo è molto più specifica e direi grave. Vi mostro un atto assolutamente ufficiale della Procura della Repubblica di Terni in cui il procuratore afferma a chiare lettere che sono stati omologati tutta una serie di dispositivi appunto antiparticolato, questi benedetti filtri FAP, sono stati omologati in maniera irregolare. Allora facciamo una promessa, stiamo parlando di prodotti fatti da Fiat, Pirelli e Iveco e quindi voi capite bene che quando parliamo di aziende così importanti naturalmente bisogna stare molto attenti. Questo documento che vi ho appena mostrato è disponibile su una cartella condivisa di Drive, quindi ve lo potete leggere tranquillamente, è un atto pubblico. Naturalmente il procuratore della Repubblica, dottoressa Elisabetta Massini, specifica a chiare tonno che sono stati, cioè accusa che sono stati omologati filtri antiparticolato in assenza delle prescritte prove. Quindi per essere omologati naturalmente devono fare delle prove. Sembra, io parlo sempre del condizionale perché naturalmente non posso essere sicuro in questo momento della verità, però sembra siano stati omologati in assenza delle prescritte prove e questo sarebbe naturalmente gravissimo, tanto è vero che appunto il procuratore chiede di procedere, vedete qui sotto, di procedere con il sequestro appunto di questi filtri. Ora voi capite che stiamo parlando di centinaia di migliaia, se non milioni, di filtri antiparticolato che dovrebbero servire a inquinare di meno e quindi a tutelare la qualità dell'aria che respiriamo tutti i giorni, se è vero che sono stati omologati senza le prescritte prove, io spero che i signori Fiat, Iveco e Pirelli abbiano una spiegazione assolutamente inoppugnabile. Allora su questo di cui vi sto parlando, oltre a alcune denunce da parte di associazioni di consumatori già fatte, ci sono due video di Report, la famosa trasmissione di Rai3 della giornalista Milena Gabanelli e qui c'è già un primo piccolo mistero perché come vedete il primo, uno dei due video, anche questi vi ho messo il link nella cartella Drive, uno dei due video è assolutamente usufruibile, vedete le immagini, si può vedere tranquillamente su YouTube e non c'è nessun problema e questo è uno dei due. Il secondo video che è un secondo servizio di Report, quindi sempre la stessa trasmissione, però un secondo servizio, è stato bloccato da YouTube, è stato messo un video bloccato a livello mondiale, come vedete io ho appena compilato il form, il modulo per contestare questo blocco, dicendo che comunque la Rai è un servizio pubblico pagato con i soldi pubblici e quindi tutti i contenuti della Rai dovrebbero essere pubblici, ma non capisco perché uno dei due video che parla di questo argomento è visibile e l'altro no, forse magari in uno dei due si fanno nomi più precisi, li ho anche guardati ma a memoria non ricordo esattamente. Terza cosa, questi filtri antiparticolato agiscono a valle del motore, cioè quando la combustione del combustibile è già stata eseguita all'interno del motore e stiamo andando verso il tubo di scappamento, loro agiscono a monte, scusate a valle, filtrando appunto le particelle più grosse. E qui è un altro degli interrogativi per cui dicevo all'inizio, ma funzionano effettivamente questi dispositivi? Perché chiaramente qualsiasi filtro dopo un po' che blocca le particelle, dopo un po' si intasa naturalmente e quindi va o sostituito o pulito. Allora siccome si intasa molto velocemente, chiaramente non si può sostituire così spesso, questi filtri sono costruiti in maniera tale che dopo un tot di chilometri, 3, 4, 500 chilometri non lo so esattamente, il materiale che hanno inglobato all'interno dello filtro, che sono riusciti a catturare, le particelle che sono riuscite a catturare e a filtrare, viene bruciato, con una vampata, un innalzamento della temperatura, viene bruciato da quello che ho capito io, reso ancora terribilmente più piccolo e a quel punto espulso dal tubo di scappamento. Se fosse così non mi sembra una gran soluzione tecnica, perché prima vado a trattenere del materiale, dopodiché a un certo punto lo brucio, creo chissà che cosa e lo espello appunto dal tubo di scappamento. Siamo in presenza adesso di un possibile dispositivo, un possibile dispositivo fatto da un'azienda veneta, che invece agisce a monte della combustione, quindi agisce sul carburante, allora io non ho chiaramente le competenze tecniche per dire se funziona o non funziona, c'è una omologazione fatta dal competente ufficio, che poi ha trasmesso la documentazione al Ministero dei Trasporti di Roma e qui cominciano i problemi, nel senso che da anni questa richiesta di omologazione corredata della prova positiva che il dispositivo funziona, questa richiesta di omologazione è ferma da anni, è ferma da anni dal Ministero dei Trasporti. Anche in questo caso io chiedo la collaborazione di chiunque abbia notizie, ossia esperto in merito, il dispositivo è prodotto da questa ditta che si chiama Dukic, con la D di Domodossola, la K e la C, Dukic, e stando alle affermazioni e alle prove tecniche dovrebbe essere in grado di ridurre notevolmente gli inquinanti poi emessi dal tubo di scappamento dalla vettura. Quindi io adesso cercherò di coinvolgere i miei colleghi della Commissione Ambiente, della Commissione Infrastrutture e Trasporti per valutare se ci sono gli estremi per inoltrare un'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo da una parte se è vero che siamo in presenza di filtri che vengono venduti, che vengono installati con un'omologazione non regolare. E questo è un discorso. Quindi filtri Fiat, Iveco, Pirelli, ma di qualsivoglia altra marca, però nella Procura di Terni parla di queste tre marche, quindi presenza di filtri non regolarmente omologati. E secondo perché da anni è ferma invece una richiesta di omologazione di un altro dispositivo che potrebbe fare da concorrenza a questi filtri, che ha ottenuto, ha passato la prova tecnica, ha passato la fase tecnica presso il competente laboratorio e invece è fermo in Ministero a Roma da anni. C'è anche già una causa in corso, quindi ripeto, valuteremo se ci sono gli estremi per un'interrogazione. Io concludo chiedendo nuovamente a chiunque abbia informazioni su questa vicenda di contattarmi e di aiutarmi nel discernere questa questione. Grazie e a presto.